Ecco stiamo smontando anche la nostra cassaforte, quella che ci ha portato spiccioletti, spiccioletti, spiccioletti e ha fatto in modo che non si poteva andare avanti perché le spese erano troppe e le offerte erano poche. Quindi questa è la nostra cassaforte del tesoro, il tesoro magro delle vacche magre, quindi se lo porterà via Andrea lo metterà all'entrata della chiesa dove sta lì vicino da qualche parte e a lui li porterà molto meglio, noi preghiamo per lui.